Ok, 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 allora possiamo partire. Docks in a Flat, il nome della band, la traduzione è cani d'appartamento, l'idea era di dare un'immagine, quella di dare l'immagine del rocker a casa. E quindi cani d'appartamento, cani d'appartamento, era un'immagine del rocker in a Flat, per me ha molto a fare con il fatto che siamo abbastanza impretenti, non credo che siamo niente speciali, eravamo amici, eravamo i cani, eravamo i cani di Vittorio Veneto. E quindi cani in appartamento, cani in appartamento era un po' descrivere questa condizione qua. Is this love. Anzi la rifaciamo. Is this love. 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 Give my heart for us My beautiful girl Is this love? Is this love? Is this love? Honey river is this paradise Blooming flowers in my desert land Give my heart for us My beautiful girl Is this love? 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 Okay